Spagnolo sì ma che giocavo nel Barcellona, il Madrid era un nemico terribile e poi c'era questa cosa che loro avevano vinto cinque coppie, sembravano imbattibili, invece noi abbiamo giocato un torneo alla grande, tutto il torneo e poi la finale molto molto bene e l'abbiamo battuto meritatamente e lì è dove abbiamo capito che eravamo una squadra di livello europeo mondiale, dove ho visto che lo dico sempre non so se là indietro c'è una foto del presidente Moratti, io ho detto, lo dico, continuo a dirle non ho mai visto una faccia così felice come quella del nostro presidente in quella giornata quando lo abbiamo alzato così è stata una cosa memorabile, impressionante